Torniamo al RIM 2021 con l'amico Giuseppe Sommario. Presentazione del rapporto italiani nel mondo, siamo con Giuseppe Sommario. Giuseppe, un evento questo tradizionale, un appuntamento a cui non si può mancare. Di che cosa si parla in questo rapporto? Che cosa ci racconta, soprattutto in questi ultimi due anni di pandemia? Abbiamo dei tratti strutturali che sono continuati a essere e a pervadere questo paese anche in questi due anni. Cioè il fatto che dall'Italia si parte. Si parte in tre direttrici, come ci ha ricordato la curatrice. Da sud verso nord, dalle aree interne verso le aree esterne e dall'Italia verso l'estero. La novità, se vogliamo, rispetto a questo dato strutturale, perché più o meno anche quest'anno sono partiti 110.000 italiani, la novità, se vogliamo, è data dal fatto che in questi due anni di pandemia, in alcune realtà, come Montrelo di cui mi sono occupato io, il senso di appartenenza e l'italianità si è, per così dire, per certi versi, anche rafforzato. La pandemia ha fatto sentire più forte l'appartenenza all'Italia attraverso alcuni tratti fondamentali, che sono il senso della famiglia. La lingua, in alcuni casi si è riscoperta e si è praticata di più la lingua, anche perché non ricordiamo che la pandemia ha toccato in maniera tragica per prima l'Italia. E, essendo forti il legame ancora fra chi vive in Canada, quindi gli spartiti e chi vive in Italia, si sono moltiplicate le videochiamate e quindi la pratica della lingua italiana o quella lingua italiana che a Montrelo, in questo caso, chiamano italianese, quel misquilibrido di italiano, di aletti, che parlano gli italiani che vivono fuori. Giuseppe, è un periodo particolare, lo abbiamo ricordato, si va verso, purtroppo, la quarta ondata, ma si va verso anche una riapertura un po' globale. Ci sono delle nazioni in Europa che stanno un po' chiudendo, però vediamo che gli Stati Uniti e l'America in generale si sta riaprendo. Questo fa molto bene anche agli italiani all'estero e anche alle loro famiglie. Il rapporto che c'è tra chi è fuori e la propria terra, i propri cari, è sempre molto stretto, lo abbiamo ricordato. Quindi diciamo che possiamo parlare di una schiarita? Ma io me lo auguro, più che altro prendo, in Calabria si dice che devo fiorire Avuk. Ecco, spero veramente che sia un augurio, anche perché, come ricordavi prima tu, gli italiani sono fortemente legati alle terre d'origine e anche in questo, insomma, subito dopo, come dire, le schiarite si sono riversate a ritornare ai luoghi di origine. Cioè i viaggi, la mobilità, quello che noi chiamiamo turismo delle radici, si è rafforzata. E quindi spero veramente che questi segnali di schiarite che riguardano un po' l'Italia, un po' tutta l'Europa e i paesi in cui, soprattutto del Nord America, perché in Sud America ancora la situazione è un po' complicata, come sappiamo, però almeno del Nord America possa portare in Italia sempre più italiani e italodiscendenti a visitare i luoghi delle origini e a rafforzare quel legame antico e mai sopito fra chi è partito e chi è rimasto. Grazie